È stata una cosa fortuita. Ero in viaggio e stavo scorrendo un po' con il telefonino delle pagine online. Era il 24 maggio e tra le notizie che leggevo c'era quella legata alla nascita di Edoardo il 24 maggio. Ho pensato, ok, arrivo in archivio, se ho 5 minuti, prendo il registro originale e mi faccio passare lo sfizio di guardare quest'atto di nascita. In realtà ho consultato l'inventario quando ho potuto e mi sono accorta che abbiamo il registro di Chiaia del 1900. Non abbiamo potuto prendere subito il registro originale che è questo, però ho verificato sul portale San Antenati come si potesse rintracciare proprio il 24 maggio. È un portale che tutti possono consultare, è una risorsa digitale pubblica, open source. Chiunque può cercare i propri antenati, sfogliare i registri perché sono pubblicati senza problemi. Ovviamente ho cercato il 24 maggio 1900, ho guardato tutti gli atti di nascita di quel giorno, Edoardo non c'era. Un Edoardo De Filippo non usciva proprio. Ho guardato nelle pagine successive, sono arrivata al giorno 30 e ho letto, ho detto tra me e me, ok, è stato dichiarato qualche giorno dopo. Con suetudine. In realtà la mamma dichiara però che il bimbo è nato il 26. Non abbiamo una spiegazione. Nel 26 la mamma si reca personalmente alla sezione dove dichiara il bambino. Perché si sia consolidata la data del 24? Io non lo so. Per qualsiasi cosa. Sì, bisognerebbe incrociare i dati con quelli relativi al battesimo, capire se potrebbe essere un errore di chi registra l'atto, però la mamma lo firma.